Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV, apriamo parlando della prima udienza del processo a carico di Jawad Isham, l'uomo che uccise, lo ricorderete, la vicenda sconvolse l'intera città e non solo, uccise moglie e suocere in un appartamento di Arezzo. Il servizio. Comparirà domani di fronte alla corte d'assise di Arezzo Javad Isham, il 38enne magrebino che lo scorso aprile uccise a coltellate la compagna e la suocera Zarran Ruschi di 35 anni e Brunetta Ridolfi di 76 nell'appartamento di via Benedetto Varchi. Un omicidio consumato di fronte ai due figli della coppia, una bimba di due anni e un ragazzo di 16. Duplice omicidio aggravato dalla convivenza stabile è l'accusa di cui dovrà rispondere. L'uomo, in considerazione della gravità del reato di cui è accusato, non potrà ricorrere a riti alternativi né abbreviati, potrebbe quindi essere condannato al massimo della pena. Javad Isham, attualmente detenuto nel carcere di Prato, potrebbe chiedere una perizia psichiatrica per valutare la piena capacità di intendere volere al momento del fatto. I figli della coppia e i familiari delle vittime si costituiranno parte civile. Il 16enne era già stato ascoltato in incidente probatorio, un modo per proteggerlo lontano dall'aula e dal tribunale, ma anche per fissare la ricostruzione dell'unico vero testimone. Tra le parti civili chiederà di essere inserita anche un'associazione che si batte a favore delle donne contro ogni violenza. L'associazione Senza Veri Sulla Lingua. Nella giornata di ieri i carabinieri di Arezzo assieme ai forestali di Sansepolcro e al Dipartimento Arpat di Arezzo hanno nuovamente interrotto, chiuso e sequestrato un impianto specializzato nella produzione di inerti per l'edilizia operante in Valtiberina. Lo stabilimento che in passato aveva subito conseguenze analoghe per violazioni ambientali era stato successivamente autorizzato a ripartire a condizione che adottasse tutte le misure previste appunto nelle prescrizioni. I militari però dopo altre segnalazioni sono tornati allo stabilimento e hanno riscontrato le stesse violazioni. Bar di nuovo chiuso un'altra volta dal questore in centro ad Arezzo. No a ritrovi per pregiudicati. Chiara Sadotti. Sono di nuovo scattati i sigilli per il bar My Way di Corso Italia. A disporre la chiusura per 15 giorni la questura di Arezzo coordinata da Maria Luisa Di Lorenzo che ha ritirato temporaneamente la licenza di somministrazione di alimenti e bevande all'esercizio. Un provvedimento che si è reso necessario a seguito del grave episodio che si è consumato nella notte dello scorso 8 ottobre appena fuori dal locale. In quella circostanza un uomo e una donna, entrambi poco più che ventenni, erano stati soccorsi dai sanitari dopo aver riportato ferite, lui al torace e lei alla mano, causate da un coltello brandito a sua volta da un altro giovane. Gli agenti delle volanti avevano posto sotto fermo l'aggressore e raccolto testimonianze. I tre avventori abituali del bar qualche ora prima dell'aggressione si erano proprio ritrovati lì per festeggiare il compleanno del giovane che poi ha sferrato i colpi. In momenti di tensione avevano coinvolto anche una barista. Il locale, soltanto lo scorso 3 marzo, era già stato destinatario di un ordine di sospensione della licenza. Successivamente il bar aveva riaperto i battenti. Poi l'episodio dello scorso weekend che ha fatto scattare di nuovo l'interdizione. Nell'esigenza, spiega la questura di Arezzo, di tutelare l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini. Nuovi guai giudiziari per il presunto omicida arrestato per l'uccisione del 38enne Joël Ramirez Seipio, ucciso fuori da una discoteca del Valdarno dopo una rissa. Compare anche in un fascicolo di droghe e rapina approdato sul tavolo del GIP di Perugia. Il nome del 33enne domenicano arrestato nei giorni scorsi per la morte del connazionale Joël Ramirez Seipo, colpito con un arghile fuori da una discoteca di Terra Nuova Bracciolini. Il 33enne viene accusato di aver ceduto per quattro anni, dal 2016 al 2020, con cadenza quasi giornaliera, cocaina ad un cittadino tunisino, ogni dose venduta a 50 euro. Ma non solo. Nel settembre del 2020 si legge sempre nella richiesta di rinvio a giudizio, assieme ad altri tre domenicani avrebbe cerchiato e percosso il proprio cliente, prima in piazza del bacio a Fontivegge. Poi ha raccontato la vittima di essere stata caricata forse in auto e legata ad un albero ed abbandonata, riportando la frattura delle ossa nasali, abrasioni e contusioni multiple giudicate guaribili in un mese. Sarebbe stata infine rapinata anche del cellulare. Insomma, nuovi guai per l'uomo già in carcere ad Arezzo con l'accusa di omicidio volontario, oltre che rissa in concorso. E adesso torniamo a parlare del cantiere di Via Fiorentina. Ce ne siamo occupati più volte in settimana. In queste ore c'è stato un incontro tra l'assessore Marco Sacchetti e Confesercenti. Ebbene, la chiusura appunto del tratto di Via Fiorentina, che va proprio dall'incrocio con la tangenziale allo svincolo poi del quartiere Orciolaia, slitterà di due giorni. Lunedì prossimo ci sarà un nuovo sopralluogo per cercare di capire se appunto sarà possibile aprire un varco ai veicoli. Questo appunto è il risultato dell'incontro tra il Comune e Confesercenti che c'è stato proprio questa mattina. La direttrice di Confesercenti, Valeria Alvisi, ringrazia il Comune del confronto costruttivo e della disponibilità dimostrata appunto dall'assessore Marco Sacchetti. Parliamo adesso invece di Cargiver. Ci sono online delle pillole di formazione proprio per aiutare chi aiuta. Con il termine Cargiver si indica colui che presta le cure e che si prende cura. Pertanto è colui che prende in carico il benessere della persona che in quel momento si trova in una situazione momentanea o permanente di impossibilità. Pillole di formazione online per aiutare chi aiuta. Questo è il nuovo importante step che va ad arricchire il progetto Cargiver voluto e curato dalla Fondazione Arezzo Comunità. Realizzare è uno spazio dedicato ai Cargiver, cioè al familiare che si occupa del familiare sono sempre di più per dare informazioni su dove trovare i servizi ma anche per dare servizi domestici che siano all'altezza dei bisogni e soprattutto per far sentire le persone molto molto meno sole. In collaborazione con O.Piarezzo, da oggi chi si prende cura di persone familiari non autosufficienti fisicamente o mentalmente ha a disposizione questo nuovo strumento. Sei lezioni video realizzate da professionisti ed immaginate come veri e propri tutorial disponibili sul portale della Fondazione. Nella maggior parte dei casi le cadute sono eventi prevenibili attraverso la rivelazione di alcuni elementi che ci permettono di attuare azioni preventive volte a proteggere la persona dal rischio di caduta. Diamo il nostro contributo ad un problema molto reale, quello della cronicità a casa e delle famiglie che si trovano a casa con pazienti cronici. Pertanto il caregiver, dove abbiamo specificato nei primi video, deve essere quella figura che si prende cura del paziente ma che non va a sostituire un professionista a tutti gli effetti anche se ha delle competenze, gli vengono fornite delle competenze professionistiche importanti da parte di veramente esperti, non può chiaramente applicarli su altre persone se non su quella persona specifica. Pertanto abbiamo voluto precisare questo. Ma nel complesso i sei video sono una prima tranche dove andremo sicuramente a dare delle indicazioni ben precise al familiare o al caregiver che si prenderà cura di questa persona ma sarà una formazione a casa dove nel portale per l'appunto messa a disposizione dalla Fondazione Arezzo Comunità riusciranno ad arrivare chiaramente a tutte le famiglie che potranno poi accedere. Un progetto che a breve si estenderà anche in presenza. Sempre grazie a Opia, grazie a tutti coloro i quali ci vorranno dare una mano professionisti a servizio della città proprio per creare anche una comunità che non soltanto risponde alle domande ma crea anche quel contesto di aiuto nell'idea che il cittadino può fare da sé ma non deve fare da solo. Una preghiera in cattedrale e con il rosario davanti alla Madonna del Conforto. Così ad Arezzo si raccoglierà la volontà dell'Assemblea degli Ordinari Cattolici della Terra Santa, l'organismo che raccoglie tutti i capi delle numerose chiese cattoliche di diverso rito presenti appunto proprio in quei luoghi che con una lettera diffusa in questi giorni e firmata dal suo presidente esprime il dolore, lo sgomento per quanto sta accadendo e ha indetto per il prossimo martedì 17 ottobre un giorno di digiuno, di astinenza e di preghiera. Giorno che appunto sarà osservato anche ad Arezzo e che vedrà il suo momento nella cattedrale a Retina dove il vescovo Andrea Migliavacca guiderà la preghiera alle 19 e 15 di fronte alla Madonna del Conforto. Un ponte da Laverna a Kiev nel segno della pace con questo proposito. Domani partirà per l'Ucraina una croce contenente una reliquia del Monte Santo dove San Francesco d'Assisi ricevette le stimmate. La croce è stata consegnata da frate Livio Crisci, ministro provinciale dei frati minori di Toscana a fra Francesco Zecca, frate della provincia salentina dei frati francescani e responsabile nazionale di giustizia, pace e integrità. E sarà consegnata ai confratelli ucraini in occasione della partecipazione di una delegazione dei frati minori dell'Equipe Nazionale Giustizia e Pace proprio domani e domenica 15 ottobre appunto dal Movimento Europeo di Azione Non Violenta in Ucraina. Cambiamo decisamente argomento e parliamo del grande mercato delle pulci a una settimana dall'edizione di questo autunno che ci sarà proprio domenica 22 ottobre. c'è grande attesa, cresce appunto ormai la passione per il mercato dell'usato e non solo e sono tantissimi gli espositori che non sono riusciti ad aggiudicarsi una postazione. Sono arrivati tanti giovani che ci hanno chiesto ah ma è una cosa tipo Vinted nel senso che loro hanno conosciuto prima l'app della cosa reale ma è questo il valore aggiunto che l'usato ormai è decisamente qualcosa da perseguire, qualcosa di utile però il fatto di poterlo fare di persona e di conoscere le persone non è una cosa da poco. Una piccola portobello in salsa retina o per dirla all'italiana un mercato di porta portese anche Arezzo ha così il suo punto fermo, il mercatino delle pulci. Decisamente però io direi con una giunta sociale cioè avevamo chiaro in mente l'idea di far stare insieme le persone e di lavorare sul benessere e sulla cittadinanza. Un mercato nato 12 anni fa come svuota soffitte oggi diventato un vero e proprio appuntamento fisso per gli aretini ma non solo. Possiamo dirlo a gran voce perché soprattutto per questa edizione sono rimaste fuori centinaia di persone le richieste iniziano ad arrivare da tutta Italia la parola diciamo si diffonde perché poi la cosa più curiosa è che moltissime persone ci chiamano proprio perché altri amici hanno fatto questa esperienza e quindi la consigliano. Il filo conduttore è l'usato, è l'uso consapevole, è il riciclo, è il riuso ma tutto questo, lo scambiarsi poi fa modo che lo scambio avvenga anche in termini umani. In tutto saranno sei i padiglioni per questa edizione. Ci sarà anche quello del vintage di qualità dove ci sono proprio i negozianti da tutta Italia. Poi dopo gli svuota soffitte continuano a farla da padrona per la maggior parte sono aretini, sono 500 ma come dicevamo prima insomma con centinaia di persone veramente rimaste fuori questa volta. Come sempre tante anche le collaterali. Siamo qui nel nostro corridoio vasariano perché qui ospitiamo l'espo artistica ma soprattutto le tantissime raccolte fondi nel senso che ci sono almeno una ventina di associazioni della città che in quella giornata raccoglieranno fondi per le loro attività. Politica, economia e società ad Arezzo dal 1985 al 2020 dalla sinistra al centro-sinistra e infine al centro-destra. 35 anni di storia aretina raccolti in Ombre Rosse il nuovo libro di Claudio Repec edito da Clicchi Firenze che ricostruisce il passaggio appunto della provincia di Arezzo dalla sinistra al centro-sinistra e infine al centro-destra con il declino di vecchie classi dirigenti e con la nascita talvolta stentata di nuove leadership. Ombre Rosse sarà nelle librerie dal 17 ottobre e il 21 invece ci sarà un convegno alla Borsa Merci proprio per la presentazione ufficiale appunto di questo volume. Flavia ha cercato con il destino dell'Ortica apre l'ottobre di Zenzero Fest. Una storia che abbraccia quattro generazioni di donne controcorrente lungo tutto un secolo una divertente saga familiare in cui si muovono figure femminili con una spiccata personalità inquieta e geniale intrecciando amori, delusioni, tarocchi, magia madri e figlie consigli al seguito che hanno la forza di prendere a schiaffi la sorte per ritagliarsi il loro ruolo nel mondo. Il destino dell'Ortica è l'esordio letterario di Flavia Cercato che ha aperto l'ottobre di Zenzero Fest. Cinque donne si passano il testimone e di epoca in epoca arriviamo fino ai nostri giorni ogni donna è protagonista di un diverso capitolo ambientato in un'epoca diversa ma sempre a Roma nel quartiere Coppedè in una casa che si chiama il Villino delle Fate che esiste veramente e siccome il destino dell'Ortica è un libro un po' magico nel senso che all'interno si parla anche di quelle energie che non si vedono ma che alcuni percepiscono si parla dell'aura appunto che circonda ogni corpo ed è un campo energetico che può assumere un colore differente a seconda dello stato della persona e mi piaceva che fosse ambientato in una casa magica anche lei. Il calendario di ottobre di Zenzero Fest prosegue nella sala della biblioteca della città di Arezzo con l'appuntamento dedicato al calciatore amato e apprezzato per le sue doti sportive e qualità umane prematuramente scomparso Gianluca Vialli Un atleta, uno sportivo ma sicuramente anche una persona per bene nella vita normale e scopriremo tante curiosità tanti aneddoti che ci racconterà Marco Gaetani che lo ha studiato veramente a fondo. Il maestro Giovanni Andrea Zanon nominato al Fiere della Repubblica nel 2016 ha ricevuto nei giorni scorsi dalle mani del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella la borsa di studio in memoria del maestro Giuseppe Sinopoli un ulteriore riconoscimento al talento del giovane violinista che dal 2021 è direttore artistico della Fondazione Guido D'Arezzo per la quale organizza e noi lo seguiamo sempre molto da vicino lo Youth Festival della stagione concertistica aretina. Il mondo della cultura aretina è il lutto per la scomparsa di Mario Nibbi uno degli artisti aretini più creativi e apprezzati degli ultimi 60 anni con la sua scomparsa se ne va una figura che ha segnato l'arte e la cultura locale della seconda metà del Novecento fondamentale anche nell'organizzazione e nell'allestimento di grandi eventi e mostre del territorio. Ed infine una notizia di sport parliamo di basket perché domenica c'è una trasferta impegnativa per l'AMNBC Servizi che sarà impegnata nella terza giornata di andata del campionato di serie B contro il basket Cecina affidata ancora alla guida esperta di coach da Prato il Cecina ha mantenuto l'ossatura della passata stagione con l'inossidabile playmaker Bruni pronto a innescare il tarento di Turini quindi insomma come dicevamo una trasferta davvero impegnativa per i colori amaranto è tutto per questa edizione del nostro telegiornale grazie per la cortesia e attenzione e arrivederci